Bella ragazzi, allora questa mattina, allora oggi è il 12, sono le 7 e mezza e fa freddissimo, siamo in macchina, ci stiamo dirigendo al lavoro Fa freddo, ci sono 11 gradi, cioè non è ancora veramente freddo e già mi sto congelando il culo, cazzo Comunque questo non è un video per comunicarvi lo stato di congelamento del mio ano, ma è un video dove dovrò chiedervi due cose Allora, la prima cosa che mi piacerebbe è che mandaste un video con la vostra moto dove potete solamente mostrare la vostra moto o dire qualcosa, tipo quello che mi scrivete solitamente nei commenti, se volete potete anche dirmelo a voce Vedete un po' voi, perché ho intenzione di fare un video con tutte le moto dei miei iscritti Mentre, la seconda cosa che voglio chiedervi, ah, è una cosa, per il video della moto che mi dovete mandare troverete in descrizione la mail a cui dovete mandare il video Mentre, la seconda cosa che voglio chiedervi è che mi piacerebbe, siccome il canale sta crescendo ed è probabile Che arriverò verso i 5.000 iscritti Mi piacerebbe che mi diceste che video vi piacerebbe vedere come ringraziamento dei 5.000 iscritti Ditemi tutte le vostre idee, poi io magari ne sceglierò una e farò quel video lì per ringraziarvi Quindi, detto questo, buona giornata a tutti, questo video penso lo caricherò verso stasera E quindi, niente, mi raccomando, mandatemi video e scrivetemi che video volete per i 5.000 iscritti Bella ragazzi!